Nascita e ascesa della cavalleria. Le origini del cavaliere medievale si possono far risalire all'alto medioevo, quando la cavalleria pesante divenne elemento determinante sul campo di battaglia. I guerrieri più abili e ben equipaggiati si distinsero come cavalieri, assumendo un ruolo di primaria importanza nella gerarchia feudale. L'investitura a cavaliere era un rituale solenne che sanciva l'ingresso ufficiale di un giovane nobile nel mondo, della cavalleria. La cerimonia includeva il bagno purificatorio, la vestizione con l'armatura e la consegna della spada, simboli di forza e onore. Il cavaliere in guerra. Il cavaliere era un combattente formidabile, la cui forza d'urto era in grado di spezzare le linee nemiche. L'armatura completa, composta da piastre di metallo e cotta di maglia, lo rendeva quasi invulnerabile alle armi comuni. Insieme al cavallo, il cavaliere formava un'unità d'assalto micidiale, capace di caricare con impeto e travolgere gli avversari. Oltre al valore in battaglia, il cavaliere era tenuto a seguire un codice d'onore che includeva lealtà al signore feudale, protezione dei deboli e rispetto per le donne. Il codice cavalleresco si ispirava ai principi cristiani di carità e giustizia, contribuendo a forgiare l'ideale del cavaliere come paladino del bene. Il cavaliere nella società. Il cavaliere occupava un posto di rilievo nella società feudale. In cambio del servizio militare al signore, egli riceveva terre e privilegi. La sua posizione sociale era elevata e godeva di grande prestigio. I cavalieri si distinguevano anche per la loro cultura e raffinatezza. Essi partecipavano a tornei e giostre, eventi che celebravano le loro abilità guerresche e il loro valore cavalleresco. La letteratura cortese fiorì attorno alla figura del cavaliere, celebrandone le gesta eroiche e i tormenti amorosi. Il cavaliere e la religione. La fede cristiana era un elemento fondamentale della vita del cavaliere. La protezione della Chiesa e la lotta contro gli infedeli erano considerate parte integrante del suo dovere. Molti cavalieri si unirono agli ordini religiosi militari, come i templari o gli ospitalieri, dedicando la loro vita alla difesa dei pellegrini e alla lotta contro i nemici della cristianità. Declino e tramonto della cavalleria. L'avvento di nuove tecnologie militari, come la polvere da sparo e le armi da fuoco, portò al declino della cavalleria pesante sul campo di battaglia. Nel corso del XVI secolo, la figura del cavaliere perse gradualmente il suo ruolo militare, ma l'ideale cavalleresco di onore, coraggio e lealtà continuò a ispirare la cultura e la letteratura occidentale. Eredità del cavaliere. Ancora oggi, la figura del cavaliere medievale cattura l'immaginario collettivo. La sua storia di guerre epiche, di valori nobili e di fede incrollabile continua ad affascinare e ad ispirare. Il cavaliere rappresenta un archetipo indelebile della cultura occidentale, un simbolo di forza, onore ed edizione che riecheggia attraverso i secoli. Evoluzione dell'armatura e delle tecniche di combattimento. L'armatura del cavaliere medievale si è evoluta considerevolmente nel corso del Medioevo. Dalle semplici cotte di maglie in ferro dell'Alto Medioevo, si passò alle armature complite in piastre metalliche del XIV secolo. Questa evoluzione fu determinata dai progressi nelle tecniche di forgiatura e metallurgia, che permisero di creare armature più resistenti e leggere. Anche le tecniche di combattimento si svilupparono parallelamente all'evoluzione dell'armatura. I cavalieri impararono a sfruttare al meglio le loro armi e armature per ottenere il massimo vantaggio in battaglia. Le freelance, le spade e le mazze ferrate erano le armi più utilizzate dai cavalieri, che si allenavano duramente per perfezionare le loro abilità di combattimento. Ruolo della cavalleria nelle crociate e nelle guerre di conquista. I cavalieri ebbero un ruolo fondamentale nelle crociate, le spedizioni militari cristiane in terra santa tra XI e XIII secolo. Il loro valore in battaglia fu determinante per la conquista di Gerusalemme e di altri territori Medio Oriente. Anche nelle guerre di conquista in Europa, la cavalleria giocò un ruolo chiave. I cavalieri erano spesso al servizio di signori feudali che combattevano per espandere i loro domini. La loro abilità militare era spesso decisiva per l'esito di queste guerre. Rapporto tra cavalieri e donne nella società cortese. Nella società cortese, il rapporto tra cavalieri e donne era caratterizzato da un codice di comportamento specifico. Il cavaliere era tenuto a essere galante e rispettoso verso le donne, che venivano idealizzate come figure delicate e virtuose. Le dame di corte spesso assumevano il ruolo di ispiratrici dei cavalieri, incoraggiandoli a compiere atti di valore e cortesia. Questo rapporto, seppur idealizzato, contribuì a forgiare l'immagine del cavaliere come paladino dell'amore e della bellezza femminile. Influenza della cavalleria sulla letteratura, l'arte e la cultura popolare. La figura del cavaliere ha avuto un'influenza profonda sulla letteratura, l'arte e la cultura popolare del Medioevo. Le chansons de geste, poemi epici che narravano le gesta dei cavalieri, erano molto diffuse e apprezzate dal pubblico. Anche l'arte figurativa, come la miniatura e la scultura, spesso raffigurava scene di vita cavalleresca, con tornei, battaglie e storie di corte. La figura del cavaliere divenne un simbolo di coraggio, onore e lealtà, che continua ad ispirare la cultura occidentale ancora oggi. Conclusione. La complessità e la ricchezza della figura del cavaliere medievale lo rendono un soggetto di studio affascinante e di grande valore. La sua storia, le sue armi, il suo codice d'onore e il suo ruolo nella società offrono una finestra preziosa su un'epoca ricca di fascino e di mistero. Inoltre, si possono approfondire altri aspetti specifici della cavalleria, come la vita quotidiana di un cavaliere, l'educazione e l'addestramento dei cavalieri, le diverse tipologie di cavalieri templari, ospitalieri, teutonici, il simbolismo associato alla figura del cavaliere. La ricerca storica e l'analisi di fonti letterari e artistiche continuano ad arricchire la nostra conoscenza di questa figura iconica del Medioevo.